Sì, grazie Presidente, l'ho scritto anche in chat. Allora, questo emendamento riguarda delle spese, allora è un emendamento a saldo zero del Municipio 12, ci sono dei risparmi che sono maturati nell'ambito delle politiche sociali nel periodo di Covid che non possono essere rimessi all'interno della stessa voce di bilancio, il Municipio ha giustamente pensato che questi fondi possano essere utilizzati per poter risistemare le scuole. Sappiamo che c'è un problema con le scuole per quanto riguarda anche il distanziamento sociale, per cui fanno questa operazione per mettere i fondi sulla manutenzione scolastica in questo momento tanto importante per il bene proprio dei cittadini romani. Io mi premi poter sottolineare che insomma noi in questa sessione, in questa variazione di bilancio, i consiglieri hanno presentato 18 emendamenti e noi facciamo sessioni di bilancio con centinaia di emendamenti e i 18 emendamenti che presentiamo sono tutti a saldo zero, per cui voler far credere alla città come tende a far pensare le opposizioni che noi vogliamo fare chissà quale operazione e quale forzatura ovviamente non è così. La cosa che sottolineo inoltre è che questa maggioranza ovviamente sa perfettamente quando un ordine del giorno è da bocciare piuttosto è da votare come astenuti perché gli ordini del giorno presentati scritti male è ovvio che ci si astiene perché l'argomento è giusto ma essendo scritto male non si può votare a favore. Grazie